Allora, buon pomeriggio e iniziamo la lezione di oggi con una anticipazione, o meglio una notizia. Poi metterò l'avviso anche su formazione online e oltre ovviamente sulla pagina docente. Allora, la prossima settimana, come indubbiamente saprete, ci sono le lezioni per il rinnovo delle componenti studentesche. Il sottoscritto è in commissione elettorale, per cui sono rappresentanti di seggio, non che la cosa sia particolarmente rilevante, se non che mercoledì il seggio si chiuderà agli studenti, le operazioni di voto termineranno per le 14. Ma non credo onestamente, anzi sicuramente non riuscirò a terminare tutte le operazioni, quindi chiusura del seggio e consegna di tutte le documentazioni verbali, in tempo per la lezione delle 16. Ma, seguendo le indicazioni del rettore, io penso di procedere così. Il magnifico rettore ha inviato una mail in cui invitava i docenti per permettere agli studenti di partecipare alle operazioni di voto e per non far sì che, vista la situazione già complessa di per sé, queste fondamentali operazioni di voto non andassero di fatto a detrimento delle ore di lezione, nella misura in cui siamo sempre sul filo del rasoio, invitava a registrare le lezioni di prima, cosa che io intenziavo di fare. Per cui le lezioni di mercoledì prossimo io le caricherò mercoledì, ma le registrerò prima. Insomma, saranno lezioni indifferite, in pratica. Quindi voi troverete, sia su Team, sia ovviamente sui soliti canali YouTube e Formazione Online, le lezioni registrate, ma non ci sarò di persona. Quindi mercoledì potete, alle 16, non mi troverete online, perché appunto è impegnato. Mentre torneremo in diretta, diciamo così, venerdì prossimo alle 14. Non credo che ci saranno ulteriori problemi in proposito. Non è che sia propriamente una soluzione, come posso dire, entusiasmante, ma è l'unica soluzione possibile, perché l'alternativa, ovvero quella di non fare lezioni mercoledì e di recuperarla poi, va a confliggere con un calendario particolarmente denso. Il rischio è che poi, come può succedere con estrema facilità, una lezione di salti per un motivo X, è sufficiente un bel temporale che faccia saltare la connessione qui, ci rinvierebbe poi praticamente a gennaio. E io vorrei terminare il corso prima di Natale. In base ai calcoli che avevo fatto, ce la dovremmo riuscire procedendo come stiamo facendo e quindi questo è come ho intenzione di procedere la prossima settimana. Ovvero come essenzialmente la tecnica non ci domini, ma ci co-domini. In fin dei conti il problema in rapporto con la tecnica è un problema che, come ben sapete, la filosofia contemporanea, no, mi correggo, non la filosofia contemporanea, come sto dicendo è una sciocchezza. La filosofia contemporanea ha fatto del rapporto con la tecnica un tema essenziale, per certi aspetti il tema apparentemente, almeno per eccellenza, soprattutto da Heidegger in poi, da un certo punto di vista, da Adorno e Orkheimer in poi, da un altro punto di vista, perché no, anche da Foucault in poi, da un terzo punto di vista. In realtà il rapporto con la tecnica è coessenziale alla filosofia, almeno, almeno, dalla prima età moderna. In realtà c'era un bellissimo testo di Giuseppe Gambiano su Platone e le tecniche, in cui già Gambiano metteva in discussione quella interpretazione riduttiva per cui le tecniche sarebbero una forma di sapere impuro e inferiore rispetto alla pura contemplazione delle idee, quindi il sapere operativo, il sapere tecnico, il sapere del popolo produttivo, della produzione, è un sapere, sì, meno nobile rispetto a quella dei filosofi, ma pur sempre un sapere. E il confronto con questo sapere è un confronto essenziale fin da Platone o fin da Aristotele o anche prima. Questo per dire che cosa? Che il problema della tecnica, che è il problema della scienza, attenzione, senza confondere scienza tecnica, non si tratta di ridurre la tecnica alla scienza, come a volte, non si tratta di ridurre la scienza alla tecnica, come troppo spesso si fa, come se, aperte virgolette, la scienza non pensasse. Questa è una delle sciocchezze che solitamente si attribuiscono a Benedito Croce o a Martin Heidegger, propriamente non l'ha detto l'uno o nell'altro, non in questi termini, entrambi però hanno avuto un atteggiamento decisamente negativo nei confronti del sapere scientifico, soprattutto delle scienze matematiche, delle scienze naturali, ma è altrettanto vero che la scienza va molto oltre l'interpretazione puramente pragmatista, e qui sto dando ovviamente un'interpretazione del pragmatismo molto riduttiva, mi si perdoni, ma mi serve semplicemente per aprire un attimo la questione con maggiore trasparenza, essenzialmente quel pragmatismo che, per esempio, un autore come Richard Rorty riconduce agli studi, alle ricerche di William James e non tanto di Peirce, bene, la scienza è un discorso in cui il cui valore veritativo si risolve essenzialmente nella sua utilità, o meglio, del fatto che funziona. Il valore di verità di una teoria scientifica, il valore di verità di un'ipotesi viene valutato in base al fatto che risolve problemi in qualche minura, funziona all'interno di un quadro concettuale. Certo, è indiscutibilmente così, non esistono, abbiamo visto, già l'altra volta in realtà Foucault aveva messo bene in rilievo come in questo aspetto, fin da, già in Comte, già nel positivismo, la presunzione del dato pre-teorico è di fatto un pregiudizio storiografico, non esiste un dato pre-teorico, non esiste un fatto che è tale indipendentemente dal quadro concettuale all'interno del quale lo si definisce. Vedremo meglio oggi come in Foucault questo venga ridefinito. Ma altresì non è corretto interpretare il sapere scientifico semplicemente in termini puramente strumentari, potremmo dire, puramente descrittivi di fenomeni che sono tali soltanto all'interno di tradizioni culturali. sempre Richard Rorty, portando all'estreme conseguenza alcune posizioni di Derrida più che di Foucault, parlava di un testualismo come in un certo senso equivalente novecentesco dell'idealismo tedesco, di un certo idealismo tedesco, ovvero esattamente come nell'idealismo tedesco, soprattutto nella vulgata eigliana, esiste solo il soggetto che si conosce opponendosi ostacoli che gli devi in qualche modo puoi superare e superandoli si conosce, quindi accresce la consapevolezza di sé, ma non esiste fuori al di fuori nulla al di fuori del soggetto, con la S maiuscola eigliano, nel testualismo novecentesco secondo Rorty esistono solo i testi, ovvero le esperienze che noi facciamo sono in realtà sempre codificate, in qualche modo preprogrammate dalla nostra cultura. Il testo non va inteso semplicemente come libro cartaceo, ma come orizzonte interpretativo. La posizione di Rorty, che è discutibilissima, è estremamente sottile, e in questo Rorty, cheppure non ha mai esaltato particolarmente Foucault, ma lo leggeva, Rorty preferiva decisamente un certo Derrida, soprattutto un certo Heidegger, si muove in una direzione che Patnam non avrà difficoltà in qualche misura ad identificare con le posizioni Foucaultiane. Essenzialmente, nella prospettiva di Patnam, quella di Foucault è una sorta di relativismo e soprattutto ciò che viene messo in questione è proprio l'impossibilità di, fra virgolette, uscire dal testo. Che significa uscire dal testo? Significa che, un secondo solo cortosamente, significa, uscire dal testo, significa porsi in un orizzonte interpretativo tale che ciò che viene definito, per esempio, come oggettivo, presenta elementi di, se non totale irrelatezza, se non totale discontinuità, quantomeno una sorta di relativa autonomia rispetto all'orizzonte interpretativo di riferimento. ma, se ci riflettete, insisto, al di là del testualismo, cioè il fatto che noi leggiamo... Guardate, quella del testualismo è una tentazione fortissima. Perché è una tentazione fortissima? È, per esempio, a un livello molto semplice, la tentazione che noi facciamo quando leggiamo un autore, per esempio Foucault, e, come ho fatto in alcuni momenti, tendiamo a sovrapporvi il lessico, le categorie, le forme interpretative di altri autori. Quando io, per esempio, dico qui in Foucault riecheggia un certo kantismo, devo fare estrema attenzione, perché una cosa è lo studio, la conoscenza di Kant da parte di Foucault e l'utilizzo consapevole da parte di Foucault di categoria, o meglio, di un certo approccio kantiano funzionale, però, alla sua elaborazione filosofica. Un'altra è ridurre, ricondurre, in qualche modo, l'interpretazione foucaultiana, quindi quelle righe che avevo letto a proposito, per esempio, degli schemi, degli apparati empirici e così via, allo schematismo kantiano, cioè a qualcosa che in realtà non gli è proprio. Ora, Foucault gioca spesso, abbiamo visto, con una sterminata biblioteca. In qualche modo, Foucault è davvero un autore borghesiano, perché esattamente come Borges lavora, Borges lavora con la totalità, o fa credere di lavorare, cioè, andiamoci, Borges era coltissimo, e lavora con la totalità del sapere umano, soprattutto del sapere umanistico umano, su tutta la letteratura mondiale, sfruttando a proprio vantaggio di lettore, pensatore, scrittore, tutte quelle complesse procedure che sono immesse in atto da una traduzione, e fra un attimo mi soffermerò un secondo sul problema della traduzione, Foucault, e quindi Borges davvero, il mondo di Borges è la biblioteca. Chiunque di voi abbia letto Borges sa che in qualche modo l'orizzonte borghesiano è un orizzonte in cui l'universo è un universo infinito che può essere descritto in termini di una biblioteca infinita. Un testo meraviglioso di Borges intitolato Il libro di sabbia descrive l'impossibilità di un libro con un numero infinito di pagine, quindi un libro compiuto che però ha un numero infinito di pagine, e come questa esperienza di nuovo di questo libro faccia impazzire di fatto il lettore. Perché? Perché, di nuovo, attenzione, qui Borges sta, come spesso fa, utilizzando Bertrand Russell. Si tratta di pensare ciò che è impossibile da pensare. Gli insiemi, un insieme che contiene un insieme infinito, i tipi logici, e così via. Sono i paradossi di Russell, sono i paradossi di Russell che sono i paradossi che hanno messo in crisi alla logica. classica, che vengono risolti, mi fido, perché, insomma, sono temi difficilissimi, dai principi a tematica di Bertrand Russell. Allora, Foucault allo stesso modo lavora, così, lavora con una sterminata biblioteca. Ho fatto notare l'altra volta come semplicemente in una prefazione, ma sappiamo bene come le prefazioni in Foucault abbiano sempre un cuore speciale. Pensate, alla prefazione perduta, mi verrebbe da dire, la prefazione è la prima edizione della storia della follia che poi gli fece togliere dalle successive edizioni. Quell'accenno nella prima, nella prefazione delle parole di cose che ho commentato l'altra volta in cui parla esplicitamente di Russell, implicitamente di Lothreamont, e non solo, ma quel richiamo a Lothreamont in realtà implica un richiamo a Max Ernst, al surrealismo, e quindi non a un qualsiasi surrealismo, ma un surrealismo negli anni 30 che però negli anni 60 veniva riletto, anche dopo la morte di André Breton, e sulla scorta delle posizioni di Blanchot e Bataille in una chiave nuova. Allora, cosa voglio dire? che c'è un problema con cui fare sempre i conti, non tanto all'interno, attenzione, della speculazione focoltiana, che pure presenta momenti in cui questo problema secondo me emerge presentando il conto al lettore, non tanto all'autore, ma al lettore sì. Ma perché non tanto all'autore? Perché l'autore, avete visto in qualche misura, nella costituzione focoltiana, sparisce. Quando, nella seconda prefazione alla storia della follia, Foucault dice il libro una volta terminato non appartiene più all'autore, in qualche misura sarebbe bello che l'autore sparisse, cosa vuol dire? Ciò che sta facendo Foucault è contestare, anche sulla scorta, di nuovo, della polemica con Derrida, contestare l'utilizzo di un concetto che egli ritiene oramai inadeguato, se non fuorviante. Qual è quello di autore? Il concetto di autore è un concetto fuorviante, inadeguato, tanto quanto il concetto di soggetto. esattamente come non c'è più il soggetto, il tema della soggettività forte, nel senso cartesiano, nel senso hegeliano, se preferite, era mai stato superato, ma non nel senso hegeliano, superato nel senso di abbandonato dalla filosofia contemporanea, dopo Nietzsche, potremmo semplificare in questo modo, dopo Heidegger, anche dopo l'approccio fenomenologico sarliano, comunque tutta la riflessione sulla soggettività che non può più arrogarsi quella virtuale onnipotenza fondatrice che invece apparteneva alla filosofia da Descartes a Hegel. Bene, questo tema del soggetto che, cito vattimo, è debole, si è indebolito oramai, si ripercuota anche sulla figura dell'autore, perché essenzialmente cosa dovrebbe essere l'autore se non colui al quale si chiede conto di ciò che ha detto in un'opera, ma è quanto di più lontano dalla prospettiva focoltiana. La prospettiva focoltiana depotenzia la figura dell'autore e fa dell'autore una funzione, fa dell'autore una funzione ovvero una sorta di luogo eteroclito però, proprio come dice nelle parole le cose, in cui si condensano, potremmo dire, si ordinano una serie di enunciati. Qui sto aprendo brevemente il problema dell'archeologia del sapere a cui accenneremo soltanto perché è un'opera che meriterebbe ben più spazio. devo dire che l'archeologia del sapere forse è l'opera che personalmente ritengo meno riuscita di Foucault o meglio è l'opera forse meno bella per quanto sia per certi aspetti il cuore, il vero cuore speculativo di un almeno di buona parte della filosofia focoltiana. probabilmente questo insoddisfazione che lascia l'archeologia del sapere a molti lettori me compreso è proprio una sorta di difficoltà nella lettura di un'opera che cerca di essere più sistematica di quello che probabilmente potrebbe essere. La sistematicità abbiamo visto non appartiene particolarmente all'operato Foucaultiano anche le parole delle cose che pure è un'opera coesa compressa che tiene insieme elementi molto diversi non presenta questo aspetto metodologico sistematico quasi da discorso sul metodo Foucaultiano. Ecco l'archeologia del sapere invece il sottotitolo una metodologia per la storia della cultura dovrebbe metterci sull'avviso è proprio questo una sorta di tentativo di fornire una metodo un discorso sul metodo per le scienze umane onestamente non so fino a che punto è riuscito l'opera è comunque di notevole valore non stiamo parlando di Michel Foucault quindi stiamo parlando comunque di un'opera di indiscutibile valore però è un po' schiacciata tra un capolavoro come le parole cose e le opere successive cui Foucault in qualche modo inizia una strada diversa diciamo che manualisticamente abbandona l'archeologia per iniziare la ricerca della genealogia prima di affrontare questo aspetto appunto l'abbandono del concetto di autore l'abbandono del concetto di soggetto la prima elaborazione del concetto di enunciato nel nuovo senso un enunciato è un'unità minima del discorso ma attenzione un enunciato non deve per forza avere senso è un'unità generatrice del discorso ma per esempio un enunciato può essere nella tastiera se voi avete davanti un computer e osservate la tastiera e poggiate se qualcuno e poggiate le vostre quattro dita tolto il pollice sinistra dalla terza fila partendo dal basso accanto al tasto che fa da per indicare la maiuscola quella è la posizione canonica che si assume in un corso di dattirografia all'inizio troverete le lettere ASDF ASDF di per sé non significa assolutamente nulla esattamente come sulla sulla riga superiore troverete il famoso KVET che solitamente viene indicato di per sé non significano nulla ma partendo dalla disposizione di quelle lettere è possibile generare una serie di parole e di discorsi scrivera riflettete molto semplicemente sul fatto che una macchina da scrivere le prime macchine da scrivere avevano i tasti che seguivano il banalissimo ordine alfabetico da sinistra a destra e dall'altro verso in basso e si sono accorti ben presto che non funzionava mentre una disposizione dei tasti come quelle che osservate sulla tastiera del computer o di una macchina da scrivere è invece molto più funzionale anche se è uno sguardo immediato è una disposizione disordinata ma qui tornava il discorso l'altro giorno a proposito dell'ordine l'ordine è tale all'interno di un orizzonte che lo rende ordine questa disposizione in realtà è fondatrice di un ordine del discorso sto citando Foucault che parla di questo in un altro senso che non è immediatamente visibile ma che viene generato da questa tastiera questo non è semplicemente il problema della scrittura come può essere per Derrida e non è mai per Derrida solo il problema della scrittura è proprio il problema di fondazione potremmo dire di ordini differenti allora dicevo poco fa il problema della traduzione che Borges è tematizzato in maniera assolutamente eccezionale soltanto un genio come può essere ma che anche in Foucault in qualche modo è presente proprio nella misura in cui Foucault si occupa soprattutto in particolare di autori francesi abbiamo visto come nella storia della follia nella nascita della clinica vedremo come sorvegliare e punire per quanto lo sguardo sia europeo la trattatistica e i testi utilizzati spesso fanno riferimento alla storia francese non solo in quel bellissimo corso del 78 78 79 pubblicato qualche anno fa con il titolo di territorio sicurezza territorio popolazione in cui vengono pubblicati corsi da 77 78 e 79 dove Foucault riprende temi che sono stati non abbozzati esplicitati nelle parole cose sorvegliare e punire e che in qualche modo è uno dei testi di riferimento per la biopolitica anche in quel corso l'attenzione Foucaultiana è soprattutto la storia della Francia ma operare una traduzione non significa semplicemente necessariamente operare una trasposizione da una lingua all'altra quello è soltanto il primo aspetto della traduzione si opera una traduzione anche quando leggendo un autore del 500 francese lo si porta non solo e non tanto linguisticamente nel ventesimo secolo nel ventunesimo secolo francese o italiano quanto piuttosto concettualmente ovvero si riesce a comprendere adeguatamente il significato di quelle parole in quel contesto culturale e si dà una resa di quel contesto culturale nel nostro faccio un esempio prima faccio un esempio filosofico non fucottiano poi faccio un esempio borghesiano per spiegare che cosa voglio dire che è poi il problema in qualche modo per esempio affrontato dai filosofi della scienza di isperazione cuniana che partono da Thomas Kuhn della traduzione dei linguaggi nel passaggio da un paradigma all'altro questo probabilmente vi è questo problema vi è noto è un problema che permane anche in Foucault con i passaggi da un episteme all'altra non è possibile che non ci sia alcuna forma di comunicazione altrimenti sarebbe come una riproposizione puntuale ossessiva e continua del passaggio dalla follia alla raison quindi con l'esclusione cartesiana eccetera eccetera e con l'impossibilità poi di parlare di comprendere di intendere l'esperienza della follia abbiamo già visto come questa impossibilità più volte rimarcata da Foucault venga però messa in crisi da alcuni momenti nella storia della cultura occidentale Diderot nipote Ramon Nietzsche Hölderlin anche e soprattutto forse il surrealismo quindi di nuovo il problema dell'ombrello della macchina a cucire del tavolo di settorio Breton René Char eccetera 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 bene questo problema di traduzione è sempre presente cosa voglio dire con le difficoltà di traduzione di un'opera di un pensiero di un contesto prendiamo un esempio come possiamo dire canonico quello di Spinota come rendere Spinota da quel latino e quindi da una lingua che è paradossalmente morta e viva perché il latino dell'età moderna il professor Franco Meschini ha esistito molto per esempio su questo tema è una lingua assolutamente viva è una lingua viva perché è utilizzata utilizzata nei testi utilizzata nei epistolari utilizzata negli atti ufficiali e così via ma al contempo è una lingua altamente codificata dopo la stagione umanistica dopo le meravigliose indagini di Lorenzo Valla poggio bracciolinea scoperta dei testi i lavori di Marc Antoine Muret di Denis Lambin l'ambinus che è stato così importante per la filologia francese al punto da diventare un nome un verbo l'ambiné che in francese indica una maniera di fare che è eccessivamente pedante esasperatamente pignola e puntuale perché perché L'ambin Denis Lambin era il filologo diciamo noi nel senso che l'umanista scrittore che aveva tra le altre cose rieditato insieme a tanti altri testi di Cicerone Seneca se non ricordo male molti autori ma oggi viene ricordato soprattutto per la sua edizione dell'Era Runnatura di Euclezio che comunque è stata è un'opera che ha sempre creato problemi e in quelle note Lambin metteva proprio in rilievo quello che secondo me è propriamente un problema di traduzione mi spiego e poi arrivo anche a Spinosa a proposito perché non me lo sono dimenticato all'inizio dell'opera Lambin di fronte alla domanda che egli si fa retoricamente ma come posso io giustificare la pubblicazione di un autore empio perché Lucrezio è un autore empio attenzione Lucrezio viene curato Lambin in piena età di guerra di religione di Lambin muore poco dopo la notte di San Bartolomeo sconvolto dalle atrocità di cui è stato testimone quindi siamo esattamente nel periodo più tremendo della storia della Francia a causa per motivi religiosi le guerre venivano motivate su base questa guerra civile su base conflitto religioso quindi pubblicare un autore che per quanto egli non si definisse ateo perché non negava gli esistenzi di Dei era di fatto l'epitome dell'ateismo e del materialismo era un problema e Lambin risponde dicendo sì ma io non approvo la sua dottrina filosofica però voglio mostrare a tutti i retoricolti di oggi la bellezza del suo latino quindi questa distinzione tra una lingua che va conosciuta per quella che è quindi non si traduce in francese ma va studiata proprio nella sua purezza e per l'altra parte invece una dottrina filosofica che diventa secondaria se non che nelle note Lambin a un certo punto proprio all'inizio dell'opera cita a sostegno delle sue tesi e dell'importanza del rapporto tra scrittura e filosofia una serie di antichi poeti e cita Esiodo e va bene cita Omero e va bene poi però cita Parmenide e se non ricordo male cita anche Democrito ovvero una fondamentale indistinzione tra poesia e filosofia Attenzione negli anni di Lambin era opinione diffusa tra i poeti e non solo per esempio Pierre Ronsard che la poesia fosse prossima alla religione nella misura in cui è opera poetica creare riti religiosi un autore che Lambin non conosceva ma che ben esprimeva queste tematiche che erano presenti soprattutto in ambito della filosofia neoplatonica Giordano Giordano e Marsilio Ficino venivano ampiamente saccheggiati in proposito ovvero l'inglese Christopher Marlow l'autore del dottor Faustus dell'ebreo di Malta e di altre cose ancora si dice testimoni attendibili dicono che si vantasse del fatto che a fronte di una religione così stupida stupida e ottusa e malfatta come il cristianesimo egli sarebbe stato capace di creare una nuova religione semplicemente con la sua opera poetica con la sua opera quindi di poeta teologo molto più utile seria e produttrice di virtù quando a distanza di circa 200 anni Vico parla di poeti teologi di nuovo sta riassumendo e rielaborando un tema di nuovo sta traducendo un tema molto antico e molto dibattuto quindi prima per traduzione di Rambem poesia e filosofia non sono sempre state all'opposizione poesia e filosofia hanno sempre proceduto insieme la nostra lettura della filosofia come qualcosa di totalmente all'inno della poesia è di nuovo figlia di un certo modo di fare filosofia che appartiene per esempio da una parte alla tradizione scolastica quindi con tutte le forme di esposizione dei dibattiti della scolastica dall'altra la trattatistica la saggistica filosofica soprattutto devo dire perché post-kantiana potremmo dire con i simili trattati scientifici quindi questo è un problema arriviamo a Spinosa scrive un'opera in latino ma avete già visto come il latino sia qualcosa di molto più complesso di quanto si immagini tradurre un'opera dal latino in italiano è già di per sé difficile per di più tradurre un'opera che scrive in latino che scrive in latino elabora in latino diciamo meglio concetti seicenteschi e che quindi non appartengono per niente per esempio al latino di cicerone anche se le parole possono essere le stesse diventa oltretutto complicato e allora alla domanda due punti ma Spinoza era ateo perché è così difficile rispondere è così difficile rispondere in realtà perché la traduzione cioè la spiegazione dei concetti spinoziani per esempio il Dio come essenza estesa attributo dell'essenzione Dio è una cosa estesa quindi Dio è materiale l'uomo la mortalità dell'anima la diamo per scontata l'attributo del pensiero fa sì che Dio sia anche una cosa pensante e di lì tutte le problematiche riguardanti una sostanza come assolutamente infinita eccetera come ci fanno comprendere quella specificità spinoziana di Spinoza era ateo sì indiscutibilmente Spinoza era ateo ma dobbiamo ben inquadrare appunto tradurre questa problematicità spiegando bene che cosa si intendeva per esempio allora per ateismo e come va reso oggi Spinoza era una misura in cui essenzialmente non credeva potremmo dire nel Dio persone e questo non era solo ma in Spinoza il principio dell'ateismo viene ridefinito attraverso un'interpretazione della natura Deus Sive Natura che fa sì che ad esempio alcuni interpreti contrappongano la prospettiva spinoziana a quella cartesiana perché la prospettiva cartesiana è una prospettiva per quel che riguarda il mondo puramente meccanica per contro quella spinoziana sarebbe intrisa di divinità ecco questa per dire è una posizione che avvicina drammaticamente Spinoza a Bruno al neocerto neoplatonismo la difficoltà di traduzione intendo questo non esiste potremmo dire che esistono traduzioni sbagliate traduzioni sbagliate ci sono traduzioni assolutamente giuste è un po' più complicato o meglio le traduzioni giuste si adeguano continuamente agli interrogativi che noi poniamo ai testi la famosa frase che è troppo spesso ripetuta di Einstein che a domanda avrebbe risposto no no ma io non sono ateo io credo in Dio ma nel Dio di Spinoza dovrebbe dire cioè sei ateo perché Dio di Spinoza viene a coincidere semplicemente con la razionalità immanente dell'universo dove però per razionalità immanente dell'universo non si deve intendere un pensiero che consapevolmente che consapevolmente fra virgolette diriga ma semplicemente le leggi che governano il fenomeno diverso e vedete come il discorso è decisamente complicato il problema della traduzione avete cominciato a capire come questo per esempio con Foucault il passaggio degli epistemi di Saserio quando Foucault analizza il passaggio dalla storia naturale alla biologia o quando analizza il passaggio dall'episteme della ricchezza all'episteme dell'economia politica nelle parole cose il formidabile quarto sesto capitolo qui della prima parte l'analisi delle ricchezze che cosa fa se non studiare alcuni processi non semplicemente di rottura ma anche la difficoltà che abbiamo noi per operare delle traduzioni per comprendere bene il passaggio da un episteme all'altra o noi assumiamo sul modello del soggetto hegeliano che in realtà c'è continuità nella storia e sì per quanto la traduzione sia difficile e comunque relativamente difficile perché si può fare perché c'è continuità nel percorso oppure se noi invece assumiamo come fa Foucault che ci sono delle crisi delle rotture epistemologiche delle fratture dei tagli degli slittamenti il problema della traduzione diventa un problema di grande rilevanza ed è un problema che autore appunto un autore Foucaultiano nel senso appunto usato da Foucault come Borges tematizza come nessun altro perché per esempio Borges che ama moltissimo la letteratura orientale soltanto quella cinese quella giapponese quella araba fa più volte riferimento a quello che è in qualche modo il testo uno dei testi più importanti della storia del mondo da un certo momento in poi perché intendo da un certo momento in poi non perché prima non fosse importante ma perché da un certo momento in poi è diventato un testo universale letto ovunque cioè Le Miglia e una Notte Le Miglia e una Notte testo amatissimo da Borges come può non essere amato da Borges un testo in cui c'è un narratore che non fa altro che raccontare storie perché raccontando storie guadagna un giorno in più di vita e questa a sua volta è una storia quindi è proprio un procedimento classico borghesiano potremmo dire beh lui legge Le Miglia e una Notte lo cita più volte Le Miglia e una Notte nella traduzione inglese di Richard Francis Barton che a sua volta è un autore che è un personaggio romanzesco che si è costruito come personaggio romanzesco Richard Francis Barton fu un in pratica fu lo scopritore delle origini nero il primo uomo a entrare il primo occidentale ad entrare alla Mecca e a uscirne vivo non musulmano intendo esploratore spadaccino eccezionale non è una cosa secondaria importanza attenzione la scherma del XIX secolo aveva un ruolo fondamentale nella costruzione della figura del gentiluomo e dell'avventuriero scrittore traduttore dall'arabo e dal latino le sue traduzioni di Catullo sono tra le più belle della storia del mondo sì importante anche il contributo di Benjamin sulla traduzione assolutamente ma il contributo di Benjamin sulla traduzione è già un livello differente nel senso in che senso è un livello differente nel senso che Benjamin si interroga sulla traduzione sulla densità della lingua e su come quindi sia sempre un atto di riflessione non attualizzante ma di confronto con la densità della lingua quello che Borges fa invece è problematizzare la traduzione attraverso i passaggi non è indifferente voglio dire che lui legga che lui citi pardon l'Emilia una notte nella traduzione di Richard Francis Barton e non in un'altra traduzione perché quella traduzione fatta da quell'uomo con quella specificità con quella vita con quelle vicende fatevi una ricerca su Richard Francis Barton e scoprirete una personalità assolutamente eccezionale una statura intellettuale senza pari nel XIX secolo ma ovviamente è un personaggio assolutamente come possiamo dire difficile ecco diciamo pure così difficile le cui opere hanno avuto fortune controverse anche in virtù del fatto che gli stesso si autodefiniva l'uomo più malvagio del secolo esagerava decisamente ma aveva stiamo dicendo nel X secolo giocava su questi ruoli pensate di nuovo a Lautremont pensate a Baudelaire pensate a Rimbaud ma all'armè a tutti alla fascinazione del demoniaco che Borges accenna questa traduzione non è di secondaria importanza egli sta costruendo una biblioteca concettuale fatta di testi costruita in un certo modo Foucault che pure non cita intendiamoci Foucault non cita che io sappia almeno l'Emilia la notte sicuramente non cita la ricetta Francis Burton ma Foucault segue la problematica borghesiana di questi aspetti l'interrogazione sulla traduzione in Foucault è fondamentale proprio nella misura in cui egli insiste così tanto sugli slittamenti concettuali che si elaborano nel passaggio da un episteme all'altro in questo è diverso a Benjamin Benjamin tutto sommato non non problematizza come potremmo dire noi i paradigmi ecco le rotture a Benjamin interessa paradossalmente invece pensate di nuovo alle tesi di filosofia della storia rendere attuale ciò che il passato ha dimenticato recuperare il passato degli sconfitti per riportare la luce e rendergli giustizia in una visione unitaria tutto sommato della storia del mondo va bene interrompiamo adesso e ci vediamo fra un quarto d'ora circa per la seconda lezione un quarto un quarto Grazie a tutti.